La medaglia di bronzo è stata una conquista importante in una stagione per la federazione incredibile, irripetibile probabilmente. 13 medaglie di cui 11 d'oro fra giovanili e seniors, quindi è un qualcosa che secondo me non deve passare in secondo luogo davanti anche ad alcune situazioni. Poi per quanto riguarda quello che è successo in ultima partita, insomma credo che ci siano delle cose. Sicuramente sono da condannare riguardo alcuni aspetti di cose brutte che sono state scritte. Credo che comunque gli atleti e le atlete devono essere preparate ad affrontare un po' questo tipo di situazioni e stare molto focalizzati sugli eventi e non su quello che succede fuori. E' il mestiere, questo non giustifica certamente chi fa degli atti di un certo tipo ma se succede bisogna stare focalizzati. Normalmente diciamo per quanto riguarda me, nei periodi di competizione veramente si legge poco del resto ma si legge molto degli avversari, di chi si deve affrontare.